X come Cristo Cristo è l'esortazione di San Paolo ad essere ognuno secondo la propria vocazione membra vive all'interno della Chiesa sono al centro del messaggio che il nostro Vescovo rivolge ai Cresimandi appena giunti a Roma durante la preghiera di benvenuto nella Basilica di Santa Maria Maggiore Monsignor Luciano Monari augura ai ragazzi di Roma Express di poter vivere con gioia il cammino di ricerca che li condurrà all'incontro con Gesù Cristo e di poter trovare presto il loro posto all'interno della Chiesa Corpo Vivo di Cristo R come Raduno in stazione venerdì 14 marzo ore 21 sul piazzale semideserto della stazione cominciano ad arrivare i primi gruppi di Cresimandi in partenza per la tredicesima edizione di Roma Express provengono da tutta la diocesi di Brescia ce lo raccontano gli enormi striscioni colorati che portano scritti i nomi dei loro paesi alcuni di loro sembrano un po' spaisati forse si tratta della loro prima avventura lontani da casa come la mia famiglia è stata una città come la mia famiglia è stata una città che non si tratta di essere una star mi saio giocare con le piazze mi devo vivere solo a metà e la vita che non spende Allora sono qua con quattro ragazze a cui faremo questa domanda se voi aveste l'opportunità di incontrarvi con il Papa quali sarebbero le domande o le considerazioni che gli fareste? iniziamo con Beatrice che ci dice cosa? sicuramente sarebbe una bellissima esperienza e la domanda che gli farei sarebbe che cosa si prova a essere Papa? l'1 e 25 e noi non si dorme per niente questo a prova del fatto che all'ufficio oratori e dappertutto noi non si dorme mai l'1 e 2 M come Monsignor Luciano Monari Sabato 15 marzo, ore 6 La flebile luce dell'alba e il cartello Roma Tiburtina Ci annunciano che stiamo per giungere a Roma Dopo pochi minuti eccoci nella stazione Termini A sorpresa però Monsignor Luciano Arriva in piazza prestissimo per dare il benvenuto ai Cresimandi Fuori e dentro la basilica è il suo tono amichevole e informale A colpire tutti quanti Dimmi un po' qual è la prima cosa che ti ha colpito appena arrivati a Roma? Il minuto di edicole Le pasticcerie che c'erano in centro I monumenti Anche i monumenti I monumenti a tutta la gente che c'era I monumenti a tutta la gente I monumenti a tutta la gente Oancese Il minuto di edificio No, sto pensando che non ritornano Sto pensando che che se poi ci riprovo Lo so che non è più lo stesso Me lo chiedo da un po' Quei momenti con te Se ritornano le parole con te Se ne vale la pena oppure vorrei più fortuna E per ogni giorno mi prendo un ricordo Che tengo nascosto lontano dal tempo Insieme agli sguardi veloci Momenti che tengo per me E se ti fermassi soltanto un momento Potresti capire davvero che è questo Che cerco di dirti da circa una vita E lo tengo per me Sei parte di me E lo porto con me La prima domanda è se c'è stata un'emozione in particolare Nel vedere tutti i ragazzi in piazza e poi anche in basilica L'emozione è grande Un pochino perché sono affezionato a questa basilica e a questa piazza Perché io qui sono vissuto per quattro anni in pratica E rivederla piena di ragazzi entusiasti Dopo un cammino abbastanza faticoso Perché una notte in treno non è il massimo Mi allarga il cuore Mi mette dentro delle speranze e dei desideri grandi Che vorrei che si realizzassero nella vita di questi ragazzi Infatti nelle parole che lei ha detto ai ragazzi Ha fatto riferimento anche a questo desiderio A questa speranza che lei ha nei confronti di loro Che pur essendo così giovani Sono comunque il cuore pulsante della Chiesa Che cosa si sente di suggerire a loro Dandoci anche una piccola anticipazione della via Che lei ha sentito da parte di San Paolo E che non ha detto oggi Però noi vorremmo un'anticipazione lo stesso Qual è questa via che suggerirebbe ai ragazzi? Quella che suggeriva San Paolo Quella del pensare la vita come un apprendistato dell'amore Quindi imparare a volere bene la propria vita A volere bene la vita degli altri A volere bene al mondo che ci sta intorno E tutto questo a volere bene a Dio con tutto il cuore Con tutta l'anima e con tutte le forze Perché quando riusciamo a volere bene a Dio in questo modo Tutte le altre dimensioni del nostro amore Vengono rese salve e robuste Credo che la via sia quella perché è la via di ogni uomo L'uomo è stato pensato per questo E fatto in modo da non accontentarsi mai Di quello che ha raggiunto Ma di impostare e immaginare la vita come un dono continuo Come un dare sempre di più E un aprire la propria vita ancora di più al mondo E la realtà che ci circonda E realizzare questo è uno spettacolo straordinario Nella vita di un uomo E io lo augurerei proprio a tutti i ragazzi C'è secondo lei in questo mondo Che se vogliamo è anche pieno di rumori Che ci possono disturbare Un modo concreto Soprattutto per i ragazzi giovani Di poter sentire la voce di Gesù E soprattutto di poter scoprire Qual è il disegno che Gesù ha per loro Sì, c'è Ci vuole una pazienza grande E una perseveranza grande Perché bisogna mettersi in ascolto Della realtà intorno E della parola di Dio Che ci aiuta a comprendere nel modo giusto E poi bisogna avere la pazienza Di conoscersi Di rendersi conto di quello che siamo E delle possibilità che stanno In noi stessi Dei limiti In modo da poter fare delle scelte Che siano sagge e generose Perché quando facciamo scelte di questo genere Rispondiamo esattamente A quello che il Signore si aspetta da noi Un'ultimissima domanda Che credo interesserà anche tutti i ragazzi Ha già provato l'iPod? No, non l'ho ancora provato Adesso lo proverò Mi aggiornano i ragazzi È uno spettacolo bello La ringraziamo tantissimo E le auguriamo una buona serata Visto che sappiamo che sarà impegnato Nella nostra diocesi Con le panne Grazie Ha come alla scoperta di Roma Terminata la preghiera con il Vescovo Inizia la nostra mattinata Alla scoperta della città È difficile non innamorarsi di Roma E delle sue bellezze Visitata ogni anno da milioni di persone Provenienti da tutto il mondo La città offre uno spettacolo unico Nel quale passato e presente Si fondono insieme Camminando per le sue strade E lungo i ponti Che attraversano il Tevere Si ha come l'impressione di fare un viaggio virtuale nella storia Un viaggio che parte dal Colosseo Passa per il Campidoglio E arriva fino a Piazza San Pietro E come entrata in Vaticano Ore 14.30 Entriamo nella città del Vaticano Il piccolissimo Stato Casa del Papa Situato nel cuore di Roma Dall'Aula Merdi Dove ogni mercoledì Si svolgono le udienze del Santo Padre Ci dirigiamo verso la Basilica di San Pietro Città del Papa Si viene la stiva Comunque ballando Pensando una vita Forse non basterà Si viene la stiva Allora Tenendo la vita Per la coda Non è caso che dico non sia un sede Stighe da Siva, te lo spetti Te lo spettino Stighe da Siva Picom è Piazza San Pietro Costruita secondo precisi schemi architettonici Piazza San Pietro possiede anche un suggestivo valore simbolico Secondo alcuni critici di storia dell'arte infatti Il colonnato del Bernini che fa da cornice alla piazza Rappresenta il metaforico abbraccio della chiesa al mondo Ed è proprio questa piazza il punto di ritrovo dei circa 50 pullman Che porteranno i Cresimandi alle loro sistemazioni notturne Noi Gente che spera Cercando qualcosa di più In fondo alla sera, alla sera, alla sera, alla sera Noi Gente che passa e che va Cercando la felicità Sopra sta terra, sta terra, sta terra, sta terra Colosseo? Sei sicuro? Va bene, dai Cosa ti è piaciuto di più di Roma? È la fontanella di Trevi Allora, qual è la parte del discorso che ha fatto stamattina il Vescovo Che ti è piaciuta di più? Quando il Vescovo ha spiegato che nel corpo di Cristo Ogni persona è importante E che nessuna può essere presa da sola Perché non è abbastanza completa Ma nessuna è inutile Perché ognuno ha un po' più compito all'interno Vorrei avere il becco Per accontentarmi delle briciole Concentrato e molto attento Sì, ma con la testa fra le nuvole Capire i sentimenti Quando nascono e quando muoiono Perciò vorrei avere i sensi Per sentire il pericolo Se tutti quanti lo sanno M'hanno paura che l'amore è un inganno Oh, ce l'ha fatta mia nonna Per 50 anni Mi avvicino Vado da Silvia Che non si aspetta assolutamente una domanda da parte nostra La cosa più piacevole di tutta questa esperienza Visto che non è il primo anno che te ne occupi È bello Secondo me far vivere ai ragazzi Questa emozione di essere a Roma Di essere insieme a tanti altri Che fanno la stessa esperienza Uscire un po' dal proprio Porticello Del proprio oratorio Per vedere Per allargare l'orizzonte Mi sembra la cosa bella R come Ratzinger Domenica 16 marzo Ore 5 e 45 Sveglia all'alba Colazione E poi in Fulman Verso Piazza San Pietro Dove assisteremo Alla Santa Messa Della Domenica delle Palle Un saluto dal vostro Fabri Siamo qua E sono le 7 di mattina È il 16 del 3 Dello 08 Tra poco andremo ad assistere alla Messa E all'Angelus del Papa Sarà un'esperienza sicuramente affascinante Perché insomma La Messa è la Messa Però celebrata dal Papa è un'altra cosa Quindi va bene Ci sono un po' di Pulman Che tra poco partiranno con Circa 300 ragazzi Per Pulman No scherzo dai Circa 50 ragazzi per Pulman Noi siamo con Flero Speriamo di arrivare presto Anche perché Beh La scarpinata non è lunga Però insomma Cercheremo di fare il nostro meglio Ok Sogno Di mezza estate Beati O voi che entrate Nel girone Negli innamoramenti Miracoli E tradimenti E tradimenti Forse è l'estate O forse è pazia Ma so che stanotte Ti porterò Alle 8 Alle 8 siamo già in fila Davanti alle transenne Che delimitano la piazza La celebrazione inizia puntuale Alle 9 e 30 Preceduta da una lunga processione Dal portone Posto alla fine del colonnato Escono in fila i fedeli E gli ecclesiastici Che si dirigono verso l'obelisco Situato al centro della piazza E in fondo al corteo C'è lui Josef Ratzinger Sua santità Benedetto XVI Ho sognato una strada Che si ferma sul ponte E che di là da un muro alto E come Eucarestia La Santa Messa della Domenica delle Palme È molto particolare E sicuramente diversa Dalle celebrazioni A cui partecipiamo abitualmente Le letture ad esempio Sono proclamate in lingue diverse Mentre il Vangelo Il racconto della passione di Gesù Viene cantato a più voci Durante la Domenica delle Palme Inoltre si celebra anche La giornata mondiale della gioventù Che quest'anno Vivrà il suo appuntamento Più importante a Sydney Dove il prossimo luglio Il Papa Incontrerà i giovani di tutto il mondo Ciao Tu come ti chiami? Vanda Sei di? Bienno E farai la Cresima quest'anno Giusto? Sì È la prima volta che vieni a Roma? Sì Cioè Sono stata anche da piccola Ma non mi ricordo quasi niente E la Messa del Papa Come ti è sembrata? Qual è il momento Che ti ha magari emozionato di più? Beh Mi è piaciuto di più il saluto E la parte dei saluti Quando ha ricordato tutti S Come sulla strada del ritorno Dopo la preghiera dell'Angelus Benedetto XVI Si concede un paio di giri Sulla Papa Mobile All'interno della piazza Tra i tanti pellegrini Si fanno notare anche i ragazzi di Roma Express Poi lentamente Mentre la piazza si svuota Ci incamminiamo tutti Verso la vicina stazione di San Pietro Dove ci attendono i treni Che ci riporteranno a Brescia Il viaggio di ritorno Accompagnato per alcune ore Dal meraviglioso spettacolo Del mare al tramonto È interminabile Ma pieno di entusiasmo E di interviste Abbiamo appena passato la stazione di Prato E ormai direi che siamo in dirittura d'arrivo I ragazzi però non mollano Sono ancora pieni di vita E sinceramente non sappiamo come fanno Cosa ti lascerà questo viaggio? Quando tornerai a casa Quale sarà la prima cosa che penserai? Sono venuta da Roma Ma con degli amici fantastici Non saprei perché tutto il viaggio è piaciuto Ma se devo fare una classifica Il Colosseo è in primo posto La Basilica Vaticana Il Colosseo Allora Che ho visto il Papa? E le esperienze che ho fatto in treno con le amiche? Il Papa È un'emozione indescrivibile Ricordo da portare a casa Il Vescovo E anche e soprattutto il Papa Esse come stanchi ma felici Le ore passano Fuori dal finestrino Solo il buio della notte La lunga giornata sta per finire E con lei anche questa fantastica avventura Improvvisamente il treno rallenta E le luci della stazione Ci fanno capire che stiamo per giungere a Brescia Sul primo binario Troviamo ad attenderci Un'accoglienza Che non ci aspettavamo proprio Scendiamo dal treno E restiamo per qualche minuto A contemplare la scena Tra la stanchezza generale Anche tanti baci Abbracci Gioia e commozione Tutto questo È Roma Express Di canzone in canzone Di casello in stazione Abbiamo fatto giornata Che era tutta da fare La luna ci ha presi E ci ha messi a dormire O a cerchiare la bocca Per stupirci o fumare Come se gli angeli fossero lì A dire che sì È tutto possibile Buonanotte all'Italia Deve un po' riposare Tanto a fare la guardia C'è un bel pezzo di mare C'è il muschio ingiallito Dentro questo presepio Che non viene cambiato E non viene smontato E zanzare vampiri Che la succhiano lì Se lo pompano in pancia Un bel sangue così D'una notte all'Italia Che si fa o si fa o si muore Che sono tutte favole Che sono tutte favole